...e vedremo delle belle... Parola mia, attenzione! E sono partiti delle fogli forte! Divisevano! Oh, scorta! E lui è... ...la ancora! ...ci non prendiamo il riscatto, il riscatto di Emanuele. All'attenzione, l'infermere che attraversa, ma che cosa sto facendo oggi? Non ci posso credere! Lì abbiamo Emanuele di Stasi con Picos! Deve X-Restipaglia e... Dai Stefano! ...di inviciare un terza posizione. Un applauso agli atleti in ritardo. Ma andiamo a vedere il campione rituale nel 2016 di questa categoria di Stasi. Dai Stefano!